Aspetta, connecchi. Una sera a cena da Paolino con Paolino, Domenico, la direttrice, per la gioia della Sant'Hiesa e la Laki. No, quello non vuole essere interpellato. No, perché oggi è passato mi ha salutato così, din din, la Laki, la Laki, l'amica, ciao. Ed ora per voi un balletto. Un balletto. Ciao, ciao, ciao. Nell'arma zucca di Periferia. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.